Hai scelto la scelta per Nicaea e quali pensi sono i problemi che presentano per un designer di produzione in questo film? Dopo aver letto lo scritto? Beh, devo dire, intanto è uno scritto molto bello e molto affascinante perché pone, ti pone, ti fa meditare proprio, ti fa pensare come è nato il cristianesimo. È proprio la radice del cristianesimo, cioè il cristianesimo che noi viviamo adesso parte da lì, non parte dai Vangeli di Gesù Cristo. Penso che l'attualità del cristianesimo parte dal concilio di Nicaea dove si è creata la cristianità, proprio si è codificata, per cui ritengo un argomento straordinario che non si è mai fatto. Per quanto riguarda il mio lavoro su Nicaea ritengo che è un'esperienza molto invitante, molto affascinante. È una grande sfida, una bellissima sfida perché appunto devi saper riportare, cercare di riportare sullo schermo queste anche scene molto certe di massa, certe scene anche diciamo di una grande portata storica, proprio grande portata storica, ma il traguardo qual è? Cercare di dare sia una bellezza visiva straordinaria, sì, ma soprattutto dare credibilità a quelle immagini che saranno dietro alla azione degli attori. Cioè nel momento in cui il pubblico vedrà quel film dovrà capire che quegli ambienti, quelle cose erano vere, anche se non le ha mai viste deve uscire dalla sala pensando che esistessero veramente. Cioè che abbiamo girato non in posti ricostruiti, ma che abbiamo girato posti esistenti che per fortuna Gesù Cristo li ha lasciati intatti, anche se non è vero. Cioè devono avere l'illusione che siano avvenuti in posti veri, credibili, perché se no c'è il rischio che il film, anche la drammaticità del film, la drammaturgia e tutto quello che è i dialoghi del film, se non ci hanno un background dietro di ricostruzione perfetta e credibile diventi tutto un po' fasulo.